Per il consuntivo si procederà con il commissario. La decisione presa dal prefetto di Chieti Armando Forgione viene confermata per bocca della stessa amministrazione comunale. I ritardi inevitabili sono dettati soprattutto dalla complessa situazione finanziaria dell'ente e di teate e servizi, oltre alla carenza di organico nei settori. L'individuazione di un commissario ad acta stringerà i tempi e aiuterà a mettere ancora più in trasparenza l'intero quadro economico e finanziario dell'ente. L'amministrazione comunale si è già messa a disposizione, come conferma il vice sindaco Paolo De Cesare. Abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare lacremente per far sì che questo avvenga prima possibile. Abbiamo inviato ieri alla prefettura una relazione che conteneva anche con allegati tutto il lavoro che abbiamo svolto fin qui. Siamo certi che nei prossimi giorni riusciremo a portare a compimento questo atto, questo provvedimento. Confidiamo nel lavoro della prefettura e assolutamente prendiamo atto della scelta ritenuta quella di nominare anche un commissario ad acta che sarà di affiancamento o comunque di supporto a questo tipo di attività che già il settore affari finanziari sta portando avanti. Purtroppo, come lei diceva, Teatreservizi, che ha fornito i dati il 30 giugno per ragioni oggettivamente ostative, cioè quelle di tutta la procedura che è in corso di istanza di fallimento e tutto ciò che ne consegue, è stata impossibilitata a fornirci questi dati prima della suddetta data. Quindi, pertanto, noi siamo fiduciosi, il lavoro che stiamo facendo lo stiamo svolgendo in maniera celere, stiamo lavorando anche di sabato e domenica e siamo sicuri che a giorni porteremo a compimento questo tipo di atto. Si tratta di un atto dovuto del rendiconto 2021, è ciò che è stato già svolto nell'anno passato, è un esercizio che, ripeto, viene chiuso con questo atto e ci accingiamo a farlo e, ripeto, sicuramente sarà anche da sprone di supporto il commissario che la prefettura avrà individuato.